Negli ultimi dieci anni abbiamo finalmente tracciato la ruta del fare, affrontando temi e progetti irrisolti da decenni. Il cuore della nostra meravigliosa Gaeta, l'area dell'ex vetreria, è stato oggetto di un piano di riqualificazione urbana che vedrà realizzare opere di infrastrutture di interesse pubblico. L'idea è quella di riconversione turistico-culturale del sito. Lì potremmo finalmente realizzare un moderno polo museale dei maestri vetrai, un omaggio al sacrificio di tanti nostri concittadini che hanno scritto la storia di Gaeta. Il progetto prevede inoltre la creazione di nuovi spazi aperti, come un nuovo parco, la creazione di ulteriori posti auto e una nuova connessione di aria tra l'attuale via Mazzini e il Corso Italia. È inoltre previsto la realizzazione di un auditorium comunale ed anche un ostello per la gioventù. Nel futuro ci attendono molte altre sfide, scommesse ed opportunità che non possiamo correre il rischio di perdere. Per questo è di fondamentale importanza farsi trovare pronti, con piani cantierabili e soprattutto una squadra di governo che sappia trasformare i progetti in realtà. Negli ultimi dieci anni sono stato impegnato in prima persona nell'amministrazione della nostra Gaeta ed insieme alla squadra di governo abbiamo trasformato in realtà tanti progetti ed opere. Per questo, assieme ai tanti amici che hanno deciso di sostenere la mia candidatura a sindaco di Gaeta, intendo lanciare una nuova sfida per il futuro, fare Gaeta ancora più grande. Grazie a tutti! Grazie a tutti!